Sì, una posizione finale che ci soddisfa abbastanza, perché visto come era stato il giro d'andata abbiamo fatto un po' fatica, invece le giorni di ritorno ce la siamo giocata quasi con tutti. Siamo arrivati ai play-off che era il secondo obiettivo della stagione perché non c'è mai nulla di scontato, quindi siamo contenti e adesso prestiamo ai play-off. Sì, Santa Croce, una squadra con cui ce la giochiamo sempre perché spesso vinciamo là, loro vincono spesso a Brescia, insomma, sarà una sfida spero equilibrata e divertente. Beh, intanto c'è una squadra che è nettamente favorita che è Bergamo, lo dice il campo e lo dice il roster. Però, come abbiamo fatto l'anno scorso, le sorprese sono sempre possibili, soprattutto nelle due gare su tre. Quindi io vedo Bergamo nettamente favorita, per il resto se la giocano tutte.